Mi ha perduto il mio caro Mi ha perduto il mio caro E dai, e dai, ho preso il check Ora che ho preso il check sembra che l'allergia va meglio Ok Con una prima posizione guarisco Credo di sì Andiamo Oh, 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 oh Sì È qui? Eh, raga, che dite? Prendo la rincorsa Eh, sì, aspettate, aspettate, aspettate Da qua Andiamo Dai, sui Mamma mia Che suino Allora, e qui che c'è da fare? Questo bel parkurito Andiamo tranquilli Comunque Questa nuova Tesseract Non mi piace tanto, eh Da portare in gara Perché lenta non è proprio il massimo Poi elettrica c'è l'accelerazione che Non sembra così buona La potevano fare una bella auto elettrica competitiva Perché a me mi piacciono E vanno pure veloci le auto elettriche È solo che Su GTA le fanno un po' lentine Grazie Tesseract Che poi se non mi sbaglio Le auto elettriche Hanno anche le marce Però diciamo che sono marce simulate Da quello che ho capito Se lo sapete scrivetelo nei commenti Perché Secondo me le marce le potevano inserire In queste elettriche Non sono ovviamente come quelle A benzina Però Poteva essere chiarina Andiamo Oh 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 Ok Poi non so se le auto Normali così elettriche Hanno le marce Perché da quello che ho capito Nella formula E Hanno le marce Anzi E poi ho capito un'altra cosa Nella formula E Possono decidere quante marce Mettere Oppure non metterle proprio le marce Non lo so regà Se sapete qualcosa Sulle macchine elettriche Mi raccomando Scrivetemi tutto Che sono interessato A questo argomento Andiamo Via 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 Allora Dove bisogna andare Per di qua Sui Mamma mia ce l'hai fatta Ok Andiamo Perfetto così Proseguiamo Per la bella Carerita Tutto ok Sì E mo Mamma mia Ragazzi sto andando bene Perché vi giuro Mi sono perso Un attimo Ah È tutto ok Meno male Per di qua Credo di sì Però seguiamo Per il car curito Che questa è una gara Car Cur Ok Andiamo Ed eccolo Qui il bel check Qui devo stare così Oh mio dio Non so di niente È tutto ok Sì Andiamo Per di qua Poi Per di qua Poi di qua E poi abbiamo il check Mamma mia che sui In oggi È qui Passiamo di lato Ok Ce la fai Tezzeract Ma Mi spiegate perché Sono stato così Violento a dare gas Si è offesa La Tezzeract Perché gli ho detto Che non ha accelerazione Tutto insieme Mi ha dato Un'accelerazione Che Che la volevo quasi comprare Non è vero Andiamo Ok Poi un'altra cosa Mi sono trollato Un'altra cosa Che vi volevo dire È che le nuove auto Che dovranno uscire La Supra Tutte queste qua Ho già visto Dei test E non vanno veloci Però non mi ricordo Se già ve l'ho detto Che peccato No il check Che sta su Possibile che Questa è la strada Perché noi siamo Venuti da qua Credo di sì Andiamo Che poi la Supra Io la voglio Regà Anche se non è Buonissima A me piace La Supra Ok Andiamo per Di qua Sarei stato felice Se La Supra Era la macchina Più veloce del gioco Invece della paria Perché già con la Supra Potrebbe essere Fattibile Ci stanno certe Certe Supra Che superano Anche le Ferrari Ho visto dei video Però ovviamente Devono essere Non modificate Di più Queste Supra Andiamo E qui Qui c'è il bel Checkpoint Non mi dire che è finito Il car curito E qui Andiamo 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 ancora Mamma mia Sui Sparate in flip E flop E dai E Prossima Chiara erita Ok Nuova Chiara Questa Chiara Dorebbe essere Stunt Però senza Flip e flop Perché dalla miniatura Avevo visto solo una spirale Niente strutture Ho messo Veicoli personalizzati Sì E ci sono Un bel po' Di Wagneriti Da questa parte Andiamo Veloci 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 Ho messo anche Quattro giri Perché durava tipo Tre chilometri a giro Quindi Quindi ho capito Che gara è Mamma mia Proprio Proprio trollato Stavo dicendo Ma perché Sto facendo Codesto Dove devo andare Non lo so Andiamo dove ci porta il vento Ok Ci sta portando Da questa parte Oh mio dio Che bella rampetta Uuuuh Olle Questo ho visto nella miniatura Andiamo E non mi dire che sarà avanti indietro Eh Ma non mi dire Wow Ce l'abbiamo fatta E siamo anche in quinta posizione Eravamo tipo Ultimi E qui Ah mi devo rigirare In scia In scia Sorpasso in scia Mentre mi rigiro Ehm Oddio esplori tutto Allora in questa gara Bisogna essere sia bravi Ma sia avere una fortuna Che mamma mia Deve essere elevatissimo Questa fortuna E noi un po' di fortuna Ce l'abbiamo Vedete Come abbiamo sfiorato Quello nella spirale E abbiamo pure il podio Ehm Era appena respawnato Vero Per non avere collisioni Credo proprio Che è accaduto Ciò Si dice Credo di sì Andiamo Veloci veloci Volevo dire Accaduto codesto Però è carino dire anche Accaduto ciò Vocabolario del suino Questo è Andiamo Ah sui Come stai Mi volevi salutare Andiamo 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 Che sto guidando pure Un po' maluccio Allora Belli Tranquilli Oh 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 Taglie Taglie sui Mamma mia Prendi sto check E andiamo Allora Belle spirale Arriva qualcuno Sembrerebbe Di no Sembrerebbe Se è primo Allora Miseria Che suino Andiamo Suino Molto felice Quando è primo Ok E la miseria E' esploso qualcosa Allora eh Eh sui Io devo andare avanti Non devo ritorna indietro eh Ci sono già andato là Ah sui Di nuovo Ci sono già andato là Non ce devo riandare Ringrazio che mi indicate la via Ma non è quella giusta Andiamo 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 Sta riando qualcun altro Io mi metto per di qua Magari no L'hanno già beccato Oh no Se mi rimettevo bene Potevo andare Ci hanno fregato La prima posizione Ci hanno fregato La seconda posizione Ci hanno lasciato La terza posizione Ok Allora Mamma mia Insulio E basta eh Basta Allora ho fatto tutto per bene Poi Sono rimasto trollato qua Come mi devo mettere Per schivare gli altri C'è una traiettoria Una traiettoria Che magari non usano In due Erano in due Vicinissimi Ragazzi Speriamo che non duri Tanto questa gara Perché io credevo Che durava Poco Invece Oh mio dio Oh mio dio Dai durerà poco Perché da adesso in poi C'è una fortuna Come questa No no Stavo a scherzare Il check L'ha preso Sì che l'ha preso Il check No 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 La seconda posizione È la mia Sui non si cita Andiamo Ce la fa a salire Ah no no Qua c'era Il loop Ok 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 Per un attimo Non avevo capito Dove stava andando Eh sinceramente Andiamo Oh oh No rega Non era un troll Era proprio qualcuno Che passava di qua Adesso è un troll Andiamo No il podio Rega Le sono fregati Il podio del suino Però almeno ho capito Com'è il gp qua Che prima Non avevo capito per niente È tipo Esagonale Quel gp È tutta sta gente qua Sui Ehm Siamo rimasti trollati Tutte e due No rega Addirittura da qua Devo ricominciare Oh mio dio Però siamo Abbiamo Il podio Andiamo 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 Belli veloci Oh sui Non voleva trollare Non lo so Rega Non ho Idea Oh mamma Meno male Che l'ho visto Rega L'ho schivato Ok Ehm Sui il check Fammi prende almeno Alla miseria Che bel 360 Mamma mia Schiviamo tutto E andiamo Oh Vai piano Vai piano Ok Dai che ci siamo Dammi Sta scia Mamma mia Te trollo Sui Te trollo Proprio qua Mamma mia Oh Dove vai? Ci siamo salvati Tutte e due Per un miracolo A me Passa qui dentro No Andiamo Secondo me Un podio Ce lo possiamo Portare a casa Ma la prima posizione E' tosta Veramente tosta Aspettate Ok Perfetto Che dite Mettiamo L'altra visuale Quella lontana Aspettate che non respawno Ok Aspettate Andiamo 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 Non lo so se ho perso tempo Non ho idea Però credo che facciamo prima così Ce la va? Credo di si Andiamo Oh mio dio Ho saltato quel su Mamma mia Dai che stavolta ci viene bene il GP Vedete? E' esagonale sto GP Perfetto Così Eh Annaggia Andiamo Sempre lui Becco Allora devo girare a sinistra Così magari Lui pensa che sto andando a destra Invece no Andiamo Abbiamo sempre un podio Qualcuno ci è passato Proprio a fianco Eh Meno male che mi ha sfiorato Scusami Seconda posizione Vado di fretta Vado No 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 Raga Aspettate 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 Si recupera Non si butta via niente Non si butta via niente Andiamo Dai C'è qualcuno vicino Dai che ce l'abbiamo fatta Mamma mia Raga Meno male Meno male che non ho buttato via la spirale C'è qualcuno dietro di me Eh sui non mi freghi il podio Aspettate Sui non mi superate all'alto Oh mio dio Dove sto dove sto Sto qui Andiamo 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 Ok tranquilli Super tranquilli Mamma mia raga Alla fine Pensavo che durava tre minuti Questa gara invece no Per niente Non avevo calcolato l'avanti indietro Mi scordo sempre che La maggior parte delle gara estante Le creano Senza collisioni E andiamo Dai forse Forse la seconda Oh raga se arrivo quarto Non voglio Allora Seconda posizione ci dice Ma credo che sono ancora terzo Sì Oh raga Raga se è concluso non lo faccio apposto E dai perché mi hanno aspettato Di nuovo Si era messo qua e mi ha fatto da rampa E sono andato direttamente al traguardo E vabbè La mia posizione sarebbe La terza Credo di sì Se vi sono piaciute le gare di oggi Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Sui miei su Instagram Saluti questi suoi vini Bella La mia posizione è la mia posizione è la mia posizione di oggi La mia posizione è la mia posizione è la mia gettata Grazie per la visione!